Sfida al vertice della classifica del campionato di promozione Girone A. Al De Vincenzi di Pietraligure si affrontano il Pietra, che dopo il pareggio a reti bianche contro il Borzoli vuole tornare al successo, e al Bissola. Prima della classe, ancora a punteggio pieno, guidata dai propri bomber Alessi e Di Pietro. A sei minuti dal fischio d'inizio la partita si infiamma già. Sul tiro di Alessi, Cocito ribatte con un braccio e l'arbitro Restaldo di Ivrea fischia l'estrema punizione. Dal dischetto si presenta il solito Alessi, che con freddezza spiazza il numero 1 di casa Ceccarini, portando avanti l'Albissola e siglando il settimo sigillo personale in questo campionato. La reazione del Pietra arriva solo tre minuti dopo. Sullo stacco di Daddi arriva Serra, che con una sponda perfetta serve Scaburri, la cui conclusione aerea si insacca nell'angolino per il pareggio della squadra di casa, da rivedere la perla del numero 11. Succede di tutto al De Vincenzi. Su un contrasto a metacampo, Piana rifila una testata sul volto di Tomeo. L'arbitro non ha dubbi e estrae prontamente il cartellino rosso, lasciando dopo soli dieci minuti l'Albissola in dieci uomini. La partita si ribalta al diciassettesimo. Sul cross di Di Lorenzo si distende con i pugni Vallarino, ma sulla sua respinta si avventa Scaburri, che con la porta sguarnita insacca senza troppi problemi per il 2-1 del Pietraligule e per la doppietta personale. Ma per questa prima frazione le emozioni non sono ancora finite. L'Albissola non molla e prova ad agguantare il pareggio. Da una splendida giocata di Alessi parte l'incursione di Paini, che riesce a servire di Pietro in profondità. Sul tiro dello stesso numero 9 vola Ceccarini e con una grande parata salva il risultato. Il Pietro prova a chiuderla. Scambio di passaggi tra Dadi e Di Lorenzo. Proprio Dadi si trova solo davanti al portiere, ma con un improbabile pallonetto non riesce a chiudere i conti. Gol sbagliato, gol subito. La legge del calcio non perdona. Gli sforzi dell'Albissola, infatti, vengono ripagati alla fine della prima frazione. Su un'uscita avventata di Ceccarini, il pallone finisce a Durante, che riesce a servire velocemente di Pietro. Il tiro acrobatico del numero 9 viene smanacciato malamente dal portiere di casa e si va ad insaccare per il momentaneo 2-2. Da rivedere il gran gesto tecnico dell'attaccante Biancazzurro. Passiamo alla ripresa con il montaggio e le immagini di Luigi Pittatore. All'inizio della seconda frazione l'Albissola, con forze d'orgoglio, passa addirittura in vantaggio. Il cross di Durante viene liberato male dalla difesa di casa. Il pallone arriva allora sui piedi di Di Pietro, che trova pronto sul proprio cross il bomber Alessi, che batte nuovamente Ceccarini e riporta avanti i suoi. Grande tempismo per l'incursione del numero 10 ospite. Tre minuti dopo si ristabilisce la parità numerica. Alberti colpisce con una gomitata sul volto, ghigliazza. L'arbitro Restaldo estrae nuovamente il rosso, mandando Alberti sotto la doccia. Il Pietra si fa coraggio e torna all'attacco. Il calcio d'angolo battuto da Gambino viene respinto dal numero 1 ospite. Il pallone termina al limite dell'area dove Scaburri è pronta a concludere. Dal suo piede parte un vero e proprio proiettile che colpisce in pieno il palo. Il montante nega così la tripletta al numero 11 e il pareggio del Pietraligure. L'Albisola prova a chiuderla con Bennati, che da un rimpallo fortuito riceve palla e si trova lanciato a rete. Ma il suo tiro termina alto e concede ancora una speranza alla squadra di casa. Nel primo minuto di recupero il Pietra rimane addirittura in 9 uomini per la doppia munizione di Serra, che precedentemente ammonito si guadagna al secondo giallo per proteste nei confronti dell'arbitro. Termina così una partita ricca di emozioni. Il Pietra non riesce a chiuderla nel primo tempo con la superiorità numerica. L'Albisola anche in 10 uomini dimostra il proprio valore e riesce a concluderla nel finale.